Iulius Evola, Maschera e volto dello spiritualismo contemporaneo, Capitolo VII, parentesi sul cattolicesimo esoterico e sul tradizionalismo integrale, parte prima. Abbiamo già rilevato che una delle cause che hanno propiziato il diffondersi del neospiritualismo è da vedersi nel carattere stesso della religione venuta a predominare in Occidente, del cristianesimo e in particolare del cattolicesimo. Nel suo presentarsi essenzialmente come un sistema teologico-rituale da un lato e dall'altro come una prassi devozionale e moralizzante, esso è sembrato offrire ben poco al bisogno del sovrannaturale avvertito da molte persone dei tempi ultimi, le quali, con questo, sono state attratte da altre dottrine che parevano promettere qualcosa di più. Naturalmente, in tal caso si aveva in vista il sovrannaturale come esperienza, perché altrimenti il cattolicesimo è caratterizzato dalla pretesa di avere in proprio, più di qualsiasi altra religione, una vera teologia del sovrannaturale con riferimento alla sua concezione di un Dio personale staccato da tutto il mondo naturale e sovrastante questo mondo. Ma non era di una qualche teologia che si andava in cerca, mentre la concezione teistica cattolica del Dio persona sembrava essere inadeguata già in partenza, per ammettere in via di principio, solo un rapporto duale da io a tu, fra creatura e il creatore. È vero che esiste anche una mistica cristiana e che il cattolicesimo ha conosciuto ordini monastici quali intendevano coltivare una vita di pura contemplazione, ma parte il fatto che qui sono presupposte vocazioni assai specifiche e che d'altronde in ogni rimozione della distanza derivante dalla concezione del Dio persona è stata vista dall'ortodossia una pericolosa eresia della stessa vita mistica, limitando assai il concetto della unio mistica o vita unitiva. Praticamente, il cattolicesimo dei tempi moderni ha dato sempre meno risalto a tutto ciò, la cosiddetta cura pastorale delle anime essendo divenuta la sua principale preoccupazione, a tacere dei più recenti rivolgimenti post conciliari di modernizzazione e di apertura a sinistra, facenti venire in primo piano mere istanze sociali e socializzatrici, coi noti squali di ingredienti umanitari, pacifisti e democratici, tutto ciò che poteva avere un carattere di vera trascendenza, essendo stato accantonato o almeno per nulla incoraggiato. Da qui, il vuoto che presso la crisi del mondo moderno ha spinto molti a cercare altrove, più o meno sulla linea del neospiritualismo contemporaneo esponendosi al pericolo che forze oscure pervertissero le più alte aspirazioni. Ma in un'analisi oggettiva si impongono alcuni riconoscimenti. Se ci si riferisce al primo cristianesimo, esso ci si presenta come una tipica religione del Kaliuga, dell'età oscura, epoca che nella formulazione occidentale dello stesso insegnamento corrisponde all'età del ferro, nella quale Siodo, come destino per i più, considerò lo spegnersi senza gloria nell'Ade. La predicazione cristiana, rivolta originariamente soprattutto alla massa dei discredenti e dei senza tradizione dell'ecumene romano, ha avuto per presupposto un tipo umano assai diverso da quello che tradizioni di un livello più alto avevano in vista, un tipo che per quel che riguarda l'accesso al divino si trovava in una situazione disperata. Così, essa prese la forma di una dottrina tragica della salvazione. Venne affermato il mito del peccato originale e indicata l'alternativa di un'eterna salvezza o di un'eterna perdizione da decidersi una volta per tutte su questa terra, esasperandola con raffigurazioni impressionanti dell'aldilà e con visioni apocalittiche. Era un modo per suscitare, in certe nature, una tensione estrema la quale, specie se associata al mito di Gesù quale il Redentore, poteva anche dare i suoi frutti. Se non in questa vita, almeno in punto di morte o nel post mortem, qualora questi mezzi indiretti, agenti sull'emotività umana, fossero giunti a modificare nel profondo la forza basale dell'essere umano. Nel rivolgersi a più vaste masse, il successivo cattolicesimo ha velato, in una certa misura, la crudezza estremistica di queste vedute, preoccupandosi di fornire dei sostegni per la personalità umana, di cui ha riconosciuto la destinazione sovrannaturale, e di esercitare un'azione sottile sul suo essere più profondo, per mezzo del potere del rito e del sacramento. In questo contesto si può indicare la possibile ragione pragmatica, pratica di essere, di alcuni aspetti, del cattolicesimo. Già certi principi della morale cattolico-cristiana, come quelli dell'umiltà, della caritas e della rinuncia al proprio volere, se intesi nel modo giusto e nel giusto luogo, potrebbero essere stati formulati come un correttivo in vista della chiusura dell'autoaffermazione individualistica, alle quali l'uomo occidentale spesso propendeva. In vista della stessa limitazione sul piano intellettuale e della corrispondente umanizzazione di ogni capacità di visione, può essere stato opportuno presentare nella forma di dogma e secondo autorità ciò che è situato al di sopra del comune intelletto, ma che ad un livello più alto, meno per un'elite, può essere invece conoscenza, evidenza diretta, gnosi. È possibile che per una non diversa ragione si sia ritenuto opportuno parlare di rivelazione e di grazia, per sottolineare il carattere di relativa trascendenza del vero sovrannaturale rispetto alle possibilità di un tipo umano, più o meno decaduto, e che doveva dimostrarsi sempre più proclive ad ogni genere di prevaricazioni razionalistiche e umanistiche. Infine, si è già accennato che i rapporti di semplice fede in un quadro teistico, con la distanza che essi lasciano sussistere, se sono certamente limitatori, per cui in tradizioni più complete essi sono stati considerati solo per gli strati inferiori di una civiltà, possono essere tali da garantire l'integrità della persona, la quale presso a mistiche panteistiche e in sconfinamenti nel sovrasensibile, come si è detto più volte, può non trovare più un saldo suolo. Queste sono limitazioni della dottrina cattolica, aventi possibili valenze positive, opportune nei riguardi della gran massa degli uomini e in vista, ripetiamolo, delle condizioni negative dell'epoca ultima, dell'età oscura. Dato che ci si tenga a questo livello, idee come quelle di cattolici quale Harry Massis e anche Albert Cuta potrebbero anche essere giuste. Il cattolicesimo rappresenta una difesa dell'uomo occidentale, mentre ogni forma non più dualistico-teistica di spiritualità, a tale riguardo spesso si ama riferirsi all'Oriente, può rappresentare per lui un pericolo. Ma quando non ci si tenga più a quel livello, le cose cambiano, e di molto. Se si mira ad aperture positive sul sovrannaturale e si ha in vista, come meta, ciò che si potrebbe chiamare la superpersonalità, ossia la personalità integrata al di sopra delle comuni condizioni umane, allora riferirsi al cattolicesimo, non parliamo poi di quello dei nostri giorni, non è più una limitazione che protegge e preserva, ma è un fattore di impietramento che si giustizia da sé per le reazioni che la sua intolleranza e faziosità può provocare ed ha provocato in chi miri a quella diversa realizzazione di sé e che abbia portato l'attenzione su tradizioni o dottrine non occidentali e non cristiane, nelle quali è più visibile un contenuto metafisico o iniziatico, e non la riduzione religiosa, dogmatica o ritualistica di esso con una rigida mitologia teistica. Oggi difficilmente può essere riattualizzata, se non eccezionalmente in alcuni e presso a crisi esistenziali pericolose, la potenzialità del cristianesimo delle origini come quella dottrina tragica della salvazione di cui si è detto. Per chi fosse da tanto, il problema non si pone, e noi diciamo, d'altronde, senza reticenze, che se persone, le quali non hanno conosciuto altro che le vanissime costruzioni della filosofia e della cultura profana plebeo universitaria di oggi, o le contaminazioni dei vari individualismi, estetismi e romanticismi contemporanei, si convertissero al cattolicesimo e vivessero veramente almeno la fede, con un totale impegno e possibilmente in un senso sacrificale, ciò significherebbe non un'abdicazione, ma già, malgrado tutto, un progresso. Però qui dobbiamo tenerci alla speciale problematica da noi indicata per un diverso tipo umano e per una diversa vocazione. Allora ci si potrebbe chiedere, sono possibili una concezione e un'assunzione del cattolicesimo che non costringano a cercare altrove una via? Vi sono ambienti spiritualisti che hanno considerato questa possibilità nel quadro di ciò che viene chiamato l'esoterismo cristiano e il tradizionalismo integrale. Vediamo come si presentano le cose a tale riguardo. In via preliminare è bene distinguere il concetto di esoterismo cristiano da quello di una iniziazione cristiana, il primo avendo un carattere dottrinale, il secondo un carattere operativo e sperimentale. Che sia esistita e in genere una iniziazione cristiana, questa è una questione controversa che, semmai, riguarda altri tempi e che a nostro parere ammette una risposta essenzialmente negativa. Se si ha ben chiaro ciò che è l'iniziazione nel senso integrale autentico del termine, non si può rilevare, in via di principio, un'opposizione fra il cristianesimo, quale dottrina centrata nella fede, e la via iniziatica. Nelle origini vi possono essere state commistioni per via delle interferenze con le antiche tradizioni misteriche e della prossimità di esse. Così di queste ultime si possono ritrovare tracce nella patristica greca. Nel trattare del teosofismo abbiamo accennato, ad esempio, alla distinzione fatta da Clemente d'Alessandria fra l'ognostikos, che ha alcuni tratti dell'iniziato, e il pistikos, che è colui che semplicemente crede. Ma ogni preciso accertamento retrospettivo a tale proposito è difficile. Anzi è impossibile, e tutto quel che è stato adotto da alcuni a sostegno dell'esistenza di una ipotetica iniziazione cristiana, riferendosi soprattutto alla Chiesa di Oriente e non al cattolicesimo romano, sembra avere un carattere meno iniziatico che non di semplice impartizione di benedizioni. Anche chi la pensa altrimenti è stato indotto a ritenere che riti cristiani, aventi in origine un carattere iniziatico, in seguito non siano sopravvissuti e non si siano tramandati che in una loro riduzione o trascrizione soltanto religiosa e simbolica. Ciò, già a partire dal concilio di Nicea. Altrimenti non resta che il mondo della mistica. Nell'ambito della Chiesa non vi è traccia alcuna di una trasmissione iniziatica, la quale per la sua stessa natura dovrebbe essere rigorosamente sovraordinata a quella delle esistenti gerarchie apostoliche. Quanto alle pretese iniziazioni cristiane in ambienti al di fuori della Chiesa e al giorno d'oggi, quando non si tratta di mistificazioni, hanno per base combinazioni spurie nelle quali il cristianesimo non è che uno degli ingredienti, senza nessuna vera radice di trasmissione tradizionale. Ciò vale anche per coloro che si sono autoqualificati, ancora ai nostri giorni, come dei rosa croce. Tuttavia il problema resta aperto per quel che riguarda non un'iniziazione cristiana attestabile anche soltanto nel passato, ma un esoterismo cristiano, ossia la possibilità di integrare ciò che è presente nel cattolicesimo, e non in un vago cristianesimo, in un più vasto sistema, riferendosi al quale possano venire anche indicati la dimensione e il significato più profondo di strutture, simboli e riti. L'integrazione, come si è detto, ha un carattere anzitutto dottrinale. Non occorre nemmeno dire che il piano a cui allora ci si deve riferire non è quello del cristianesimo esoterico, della Besant e del Ludelbeter, per tacere delle segesi dei Vangeli compiute dallo Steina con un cumulo di incredibili enormità. Qui può entrare invece in questione ciò che può fornire la corrente del tradizionalismo integrale, la quale ha avuto essenzialmente René Guénon come caposcuola. L'idea di base è la nozione di una tradizione primordiale metafisica unitaria di là da ogni tradizione o religione particolare. Il termine metafisico qui è preso non nel senso astratto che ha in filosofia, ma con riferimento ad un sapere intorno a quel che non è fisico nell'accezione più ampia e ad una realtà che trascende il mondo soltanto umano con tutte le sue costruzioni. Detta tradizione avrebbe avuto nelle diverse tradizioni storiche e particolari tante manifestazioni più o meno complete, con adattamenti alle varie condizionalità ambientali, storiche e razziali, realizzatesi per vie che sfuggono alla ricerca profana. In tale presupposto sarebbe data la possibilità di ritrovare elementi costanti o omologabili negli insegnamenti, nei simboli e nei dogmi di dette tradizioni storiche e particolari e rifarsi ad un superiore piano di oggettività e di universalità. Idee del genere si erano affacciate anche nel teosofismo e in alcuni ambienti della massoneria, però in forma inadeguata, e appunto la scuola guénoniana che ha saputo presentarle e svilupparle in modo serio e rigoroso, con la corrispondente tesi dell'unità trascendente delle religioni. Devesi sottolineare che qui non si tratta di un sincretismo e nemmeno di quelle corrispondenze talvolta effettive ma sempre empiriche ed esteriori che possono essere rilevate dalla corrente storia delle religioni. Il presupposto è un metodo opposto, deduttivo, basato su conoscenze fondamentali e su principi che, quasi come dalla definizione del triangolo, si possono dedurre teoremi valevoli per i singoli casi. Del pari danno modo di comprendere come sotto certe condizioni e in relazioni ad una verità di possibili forme espressive, oltre che in vista di diverse esigenze, da certi significati e simboli della tradizione, una si giunga all'uno o all'altro corpus di insegnamenti, credenze, dogmi, mitologhemi e perfino di superstizioni, permettendo dette costanti ad onta di ogni diversità e perfino di ogni contrasto apparente. Ebbene, la prima integrazione esoterica del cattolicesimo consisterebbe appunto in ciò, partendo dalle dottrine e dai simboli della Chiesa, saper percepire quel che in essi, per essere veramente cattolico, ossia universale, va al di là dal cattolicesimo, cogliendo anche nessi illuminanti di un carattere, per così dire, intertradizionale. Ciò comporterebbe non un alterare quelle dottrine cattoliche, ma un farne valere i contenuti essenziali su di un piano superiore a quel che è semplice religione, su un piano metafisico e con prospettive realizzative che possono andare incontro a chi aspiri al trascendente. Solo che bisogna badare a non invertire il procedimento, come purtroppo è già accaduto, nell'assumere come elemento primario le dottrine cattoliche nelle loro limitazioni specifiche per giustapporvi qualche riferimento tradizionale. Sono invece questi riferimenti che dovrebbero costituire l'elemento primario e il punto di partenza. Non occorre dire che unicamente in questa prospettiva tradizionale, o super tradizionale, potrebbe valere l'assioma della Chiesa, quod ubique, quod ab omnibus et quod semper, ciò che è riconosciuto come verovunque, da tutti e sempre. Non certo sul piano di quell'apologetica cattolica che si potrebbe ben dire modernistica, in quanto essa fin dagli inizi ha insistito fanaticamente sul carattere di novità e di ripetibilità del cristianesimo, con l'unica riserva di anticipazioni e di prefigurazioni da riferirsi soprattutto al popolo ebraico, quale popolo eletto da Dio. La novità può essere concepibile, nei solo riguardi, di un particolare adattamento della dottrina che è nuovo solo perché riferente sia a nuove condizioni esistenziali e storiche, le quali proimposero l'esposizione dell'insegnamento tutt'altro che in una forma superiore. Per poter affermare sensatamente l'assioma cattolico dinanzi citato, l'atteggiamento dovrebbe essere l'opposto. Invece di insistere sulla novità delle dottrine, quasi che questo fosse un titolo di merito, si dovrebbe tendere a metterne in luce l'archecità e la perennità, appunto col mostrare la misura in cui esse possono venire riportate, nella loro essenza, ad un corpo sovraordinato di insegnamenti e di simboli che è davvero cattolico, cioè universale, per non lasciarsi rinchiudere in nessun tempo e in nessuna formulazione particolare, pur restando alla base di ciascuna di esse sia nel mondo pre-cristiano che in quello non cristiano, occidentale e non occidentale, sia in tradizioni esistenti o passate in forme involutive e notturne, come ne è il caso per credenze spesso conservatesi fra le stesse popolazioni selvagge. Il cattolicesimo ammette l'idea di una rivelazione primitiva o patriarcale, fatta al genere umano prima che sopravvenissero il diluvio e la dispersione delle genti. Nota. Questi avvenimenti non sono mitici se non nella forma in cui sono presentati nell'Antico Testamento e riguardano poi soltanto un determinato ciclo storico. Il racconto del diluvio va considerato come l'eco del ricordo delle catastrofi che distrussero le sedi originarie, artica e nordico-atlantica, della razza preistorica che ebbe in retaggio la tradizione primordiale unica, conducendo così ad una frattura e ad una dispersione. Ma di queste idee esso non ha fatto nessun uso che lo portasse di là dalle accennate limitazioni. L'unica eccezione è forse costituita dall'etnologo cattolico padre William Schmitt, il quale nella sua poterosa opera L'idea di Dio se ne è servito, appunto, sul piano dell'etnologia. Come caratteristica del cattolicesimo corrente restano dunque una chiusura unita ad un esclusivismo settario.